Saranno un tour de force le elezioni amministrative in Sicilia. Voto e scrutinio in un solo giorno, una non stop elettorale. Si andrà ufficialmente a votare domenica 5 giugno con eventuale turno di ballottaggio 15 giorni dopo, ovvero il 19 giugno. All'ufficio elettorale regionale è infatti arrivato il numero del decreto. Adesso si sta procedendo con tutta la documentazione per l'indizione dei comizi elettorali. Secondo quanto riferitoci dall'ufficio elettorale regionale, si voterà dalle ore 7 del mattino del 5 giugno sino alle ore 23 dello stesso giorno, a seguire lo spoglio. Non ci sarà sosta quindi per gli uffici, presidenti di seggio, scrutatori e per quanti saranno impegnati in queste amministrative, che dovranno lavorare fino a tardanotte, se non fino a sole più che sorto. Se nella stessa giornata si dovesse votare anche per le elezioni politiche nazionali, ad avere precedenza nella fase dello sfoglio, saranno le nazionali, solo a seguire le comunali. Insomma, i giorni delle amministrative in Sicilia saranno più che impegnativi, saranno ore intense. Ora resta il problema di individuare le persone giuste da mettere al posto giusto. A Favara e i partiti, tranne il Movimento 5 Stelle, faticano ancora a trovare i loro candidati alla carica di sindaco. Risulta difficile trovare il punto di incontro per i nomi da proporre agli elettori. L'unica speranza per i cittadini favaresi è che il futuro sindaco di Favara possa veramente prendere a cuore la città e che voglia e riesca a farla rinascere e crescere sempre più. I cittadini privati hanno dimostrato già di essere pronti e di saperci fare, speriamo sia così anche per il pubblico. Possiamo ufficialmente dire al via la campagna elettorale.